Musica Pescara, polemiche per il G7, l'opposizione attacca sugli affidamenti diretti, la giunta Masci replica, critiche strumentali. Stellantis, l'SOS e i sindacati, tutti gli impianti sono in perdita, situazione da profondo rosso, rischia del licenziamento 25.000 operai. Unilever slitta l'incontro tra sindacati e vertici aziendali. Il convitto Melchiorre del Figo di Teramo posto sotto sequestro, lo ha deciso il Tribunale, sospese tutte le attività didattiche. Dopo la pausa estiva riparte Contola Rovescia, il presidente Francesco Roberto, ospite insieme ai sindaci di Campobasso e Isernia, Forte e Castrataro, domani sera alle ore 21 su Teleregione. Lancia Abruzzo, associazione dei comuni italiani, compie 30 anni, celebrazione al teatro Marlucino di Chieti. Un giovane molisiano su 3 ha provato sostanze stupefacenti. Questone di Campobasso organizza torri in 15 istituti scolastici per mettere i ragazzi in guardia sulle dipendenze. A Isernia si insedia il nuovo prefetto Montella, orgoglioso di essere qui. Calcio Lega Pro, il Pescara in casa dell'Ascoli che cambia allenatore e attende Tesser. Il Campobasso sogna l'impresa a Termi. Buonasera, eccoci puntuali con il nostro Tg che apriamo con il G7 che si terrà a fine mese a Pescara. Infatti mancano 20 giorni dal G7 sviluppo in programma a Pescara dal 22 al 24 ottobre. CGL e associazioni si dicono contrarie e l'opposizione consigliare attacca la giunta Masci sugli affidamenti diretti per i lavori. Pronta la replica, critiche strumentali. Ci dice tutto Valentina Cialante. Manca poco al G7 di Pescara in programma dal 22 al 24 ottobre prossimi ed esplode la polemica con CGL e Ampi e altre associazioni che preparano contro iniziative istituendo il coordinamento G7 di Pescara e con l'opposizione che attacca il comune per la scelta delle spese da affrontare in vista dell'arrivo dei ministri degli esteri delle potenze mondiali. Si tratta di 550 mila euro che verranno impiegati per la manutenzione del verde pubblico nell'area dell'Aurum che sarà zona rossa come tutto il quartiere di Porta Nuova quindi inaccessibile con permessi solo per i residenti, 80 mila euro circa. E ancora per asfaltare diverse strade, per imbiancare il palazzo di città, per gli arredi urbani su Corso Umberto. Come sono state scelte le aziende beneficiari dei fondi, ha chiesto l'ex candidato sindaco Domenico Pettinari. I soliti affidamenti diretti, la fondo di Paolo Sola del Movimento 5 Stelle. A replicare l'uomo dei conti del comune l'assessore al bilancio Eugenio Seccia che spiega come la regione provvederà alla restituzione parziale o totale della somma. Queste risorse saranno spese sul territorio e resteranno dopo il 25 di ottobre, sarà l'ultima giornata, a Pescara e ai pescaresi rendendo la città più bella, migliore di quanto non fosse prima del G7. Intanto la macchina organizzativa è in piena attività per un evento che porterà Pescara alla ribalta mondiale e che oltre al ministro degli esteri del governo italiano Tajani e ai colleghi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, vedrà la presenza di 30 delegazioni di altri paesi. Una settimana piena al via martedì 22 ottobre col B7 Italia di Confindustria in programma al comune. Il 24 e il 25 le giornate cru del G7 sviluppo all'Aurum, poi altri eventi fino al 27 ottobre. Veniamo ora al caso Stellantis, la Fimcis lancia l'allarme e tutti gli impianti italiani sono in perdita situazione da profondo rosso. Il sindacato suona la sveglia al governo, servono nuove risorse, rischiano il licenziamento 25 mila persone. Stefania Potente. Tutti gli impianti italiani del gruppo Stellantis sono in perdita. Una situazione da profondo rosso per il sindacato Fimcis, molto pesanti i primi nove mesi del 2024, realizzato il 40,7% in meno delle auto e il 10,2% in meno dei furgoni. Le prospettive sono preoccupanti anche per le fabbriche che fino a poco tempo fa facevano registrare numeri positivi come lo stabilimento di Atessa, dove ora la produzione dei veicoli commerciali segna un meno 10,2%. Quanto riguarda il nostro territorio, il Molise, nello specifico Termoli, lo stabilimento Stellantis, stabilimento che per anni ha prodotto motori endotermici, abbiamo serie difficoltà e vediamo il futuro con un occhio di preoccupazione. Preoccupazione perché all'indomani delle conferme da parte di Stellantis di mantenere fede a quello che è l'impegno sul piano del foro del 2030, ovvero il processo di elettrificazione, la decarbonizzazione e quindi l'azzeramento delle produzioni endotermico. In questo momento non avere una prospettiva di riconversione industriale e quindi un insediamento da parte di un colosso che si doveva chiamare ACC, che si chiama ACC su altri territori come Turreni in Francia, in qualche modo getta Termoli in una fase di futuro con più nubi che luci. Questo ci sta facendo preoccupare perché in qualche modo noi abbiamo chiesto e chiediamo con le organizzazioni sindacali, alla Commissione europea, al Parlamento europeo di rivedere le misure a sostegno della transizione elettrica, non di ritornare indietro sui propri passi. L'11 ottobre l'AD Carlos Tavares parteciperà all'audizione in Commissione Attività Produttive della Camera, un appuntamento molto atteso dal momento che nelle ultime settimane si sono moltiplicate le iniziative parlamentari che chiedono lumi sul futuro dell'automotive, ma anche della Gigafactory di Termoli. Una mozione è stata presentata dal deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Caramanna, mentre porta alla firma del senatore del PD abruzzese, Michele Fina, un'interrogazione urgente al Governo. Fina domani pomeriggio sarà a Termoli proprio per incontrare i lavoratori del gruppo Stellantis. Slitta di una settimana l'incontro tra sindacati e vertici aziendali per la riconversione dell'ex Unilever a Pozzilli, un segnale certamente non positivo nell'ottica di un rilancio dello stabilimento. Nicola De Santis. Oggi i sindacati avrebbero dovuto incontrare i vertici della NUCO sorta dalle ceneri di Unilever per condividere le novità relative al pronunciamento ufficiale di Enea sulla sostenibilità e sulla finanziabilità del piano industriale. L'incontro è stato però posticipato al 10 ottobre, perché da Roma non sono ancora giunte novità di rilievo. Ad oggi, infatti, non è dato sapere se Enea abbia incontrato i vertici del Ministero e soprattutto quale sia stato l'esito di un eventuale incontro. Il silenzio tombale che avviluppa l'intera vicenda non lascia presagire nulla di buono. Enea, informalmente, avrebbe fornito ai vertici aziendali il proprio assenso rispetto al piano industriale. Le buone intenzioni andavano però ufficializzate attraverso un documento che non è mai stato firmato. Intanto Unilever ha annunciato 3.500 licenziamenti in tutta Europa e nel contempo ha dichiarato che per Pozzilli non tollererà ulteriori ritardi da parte del Ministero. Dunque, la situazione del nucleo industriale di Pozzilli inizia a divenire drammatica. La Roma è in sofferenza a causa del calo di commesse da parte di Stellantis. Per l'economia dell'intera provincia di Sernia e non solo, sarebbe un ulteriore colpo ferale. A Termoli si è svolto il Job Day con l'obiettivo di evitare che i lavoratori della Vibac escano dal mercato del lavoro in mista del licenziamento collettivo. Il servizio di Emanuele Bracone e Franco De Santis. Profilare 115 dipendenti Vibac, di cui 48 in lista per un licenziamento collettivo a partire dal prossimo 25 ottobre e avere 111 slot in 11 aziende di Abruzzo e Molise per una possibile ricollocazione. A Termoli è andato in scena il Job Day con l'obiettivo di rafforzare le azioni di politica attiva e far crescere l'occupazione, esperimento pilota messo in campo nelle more della vertenza Vibac. Presenti l'assessore regionale Gianluca Cifaratti e il responsabile nazionale Angelo Irano. Siamo organizzatori insieme a Sviluppo Lavoro Italia di questa iniziativa che nasce sulla crisi Vibac. Siamo molto soddisfatti perché mi pare che l'iniziativa abbia colto nel segno, anche i lavoratori pare che siano molto soddisfatti. Cerchiamo di far confrontare l'offerta con la domanda. Abbiamo circa 11 aziende che offriranno 111 posizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici della Vibac. Speriamo che si possano concretizzare in posizioni effettive di lavoro. I dipendenti aderenti, sollecitati anche dalle organizzazioni sindacali che lo scorso primo luglio avevano firmato l'accordo con l'azienda, hanno potuto svolgere colloqui di lavoro con le imprese presenti, essere informati sull'autoimpiego e approfondire il sistema degli incentivi al lavoro. È stata abbastanza positiva questa esperienza. Credo che ci siano delle opportunità, dobbiamo aspettare, magari l'evolversi della situazione lavorativa in azienda e poi magari tirare le conseguenze. Questo il bilancio stilato da Carlo Scarati di Wiltec e Massimiliano Recinella di Femcacisle. Questa è un'iniziativa, penso che sicuramente la prima in questa regione, ma farà anche da per vista in tante altre realtà, dove si mette in collegamento il mondo dell'impresa con le loro richieste e con le loro necessità, con il mondo del lavoro, sperando che si trovi sintesi e magari, sperando che chiaramente non ci siano gli esuberi auspicati nella prossima apertura di mobilità, il minimo delle persone che possano essere impattate e possano trovare una riallocazione all'interno di queste opportunità lavorative che oggi sono proposte. Dopo un uso intensivo di politiche passive del lavoro, tradotto la gas integrazione, finalmente si è arrivato alle politiche attive del lavoro che possono dare effettivamente in una fase come questa avanzatissima dell'avvertenza VBAC, uno sbocco alternativo per gli eventuali esuberi che si dovessero palesare nel prossimo futuro. Veniamo ora alla cronaca. La polizia di Pescara ha arrestato il presunto aggressore del 15enne al coltellato in pieno centro martedì sera. Si tratta di un diciottenne, avrebbe colpito con violenza il ragazzino per gelosie. Ora è rinchiuso in carcere. Tentato omicidio, questa l'accusa a carico del 18enne arrestato e tradotto in carcere dalle squadre mobile e volanti della questura di Pescara al termine di una folle fuga ingaggiata dal ragazzo che dopo una lite per motivi di gelosia col 15enne accoltellato in via Firenze non aveva fatto ritorno a casa, nascondendosi in un paese limitrofo alla città adriatica. Sulla base degli elementi raccolti dai poliziotti con video e testimonianze sarebbe stato lui a colpire più volte con violenza armato di coltello il ragazzo che martedì sera poco dopo le 20 è entrato nella farmacia tra via Firenze e via Trieste grondando sangue e chiedendo aiuto. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo un duro alterco dovuto a un amore finito male. Il diciottenne infatti frequenta la ex di un amico della vittima, da qui la lite e la violenza. Il quindicenne non è in pericolo di vita, le sue condizioni sono stabili. Dopo l'allerta lanciato dal farmacista che lo ha soccorso, il 118 lo ha trasportato d'urgenza in ospedale ed ora è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica diretto dal professore Gabriele Lisi. Il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, ha convocato d'urgenza un comitato d'ordine pubblico e sicurezza prevedendo maggiori pattuglie nel centro di Pescara. Intanto sale l'allarme per la continua escalation di violenza. A quattro mesi dalla brutale uccisione di Cristopher Thomas Luciani nulla è cambiato. Tuonano i consiglieri regionale e comunale del PD di Marco e Presutti che chiedono il rispetto dell'impegno assunto dal comune su monitoraggio e controllo del territorio. Torniamo sul basto incendio nel residenza erica di Pescassero. Lì sono due le famiglie evacuate, a cinque sono gli appartamenti evacuati. Le condizioni di salute dell'operaio intossicato dal fumo non destano preoccupazione. I carabinieri indagano su eventuali responsabilità, i particolari nel servizio di Sonia Paglia. L'incendio che ha colpito il residenza erica di Pescassero ha causato gravi danni alla struttura che potrebbero superare i 50 mila euro. Inoltre lo sgombero di due famiglie e il trasporto in ospedale di un operaio. Sono stati coinvolti cinque appartamenti. Le fiamme si sono sviluppate durante i lavori di manutenzione sulla copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco insieme a volontari. Un operaio, esposto al fumo tossico, ha subito problemi respiratori ed è stato condotto d'urgenza in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda serata per domare le fiamme e impedire che l'incendio si propagasse all'interno dell'edificio e nelle aree verdi circostanti. Al termine l'area è stata dichiarata inagibile e lo stabile resterà interdetto fino a nuove verifiche. È previsto l'arrivo dei funzionari. Oggi sarà presente un presidio dei vigili del fuoco per permettere alle famiglie evacuate di recuperare i propri beni. Sull'episodio ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Castelli Sangro. Gli operai e responsabili della ditta saranno ascoltati per chiarire i dettagli dell'incendio. Nel frattempo i militari hanno effettuato ronde notturne per prevenire furti. L'incendio che oggi si è sviluppato qui a Pescasserole presso il Residence Erika Sito in via dell'Epinete. Durante i lavori di ristrutturazione ero bonus 110. Il tempestino ed efficiente intervento dei vigili del fuoco della caserma di Castelli Sangro e quella di Avezzano hanno permesso di domare l'ingendio e limitare i danni che restano comunque ingenti. E l'isoccorso e i sanitari del 118 hanno prima soccorso e poi trasportato l'operaio che è rimasto indossicato dalla inalazione dei fumi, le cui condizioni per oggi non destano preoccupazioni. Ringrazio vivamente i vigili del fuoco, i sanitari, i volontari, i volontari del PIPEC, Soccorso Produzione Civile di Castelli Sangro, che hanno contribuito volontariamente con la loro opera a risolvere questo spiacevole e preoccupante incidente. Diretto fine per una storia che ha tenuto in apprezzione una famiglia e una comunità intera. Un bambino di otto anni è stato salvato dall'equipe della radiologia interventistica dell'ospedale di Pescara grazie ad un intervento svolto in emergenza con tecnica mini-invasiva. Il bambino, dopo una caduta dalla bicicletta, aveva riportato una grave emorragia interna e una grave lesione del fegato e dell'arteria epatica. Trasferito in gravissime condizioni dal presidio di Giulianova al Santo Spirito è stato sottoposto a un intervento di emborizzazione endovascolare epatica condotta dal primario Vincenzo De Giglio e dal dottor Maurizio Pellegrini coadiuvati dal team multidisciplinare nei reparti di anestesia, rianimazione e chirurgia pediatrica. Il piccolo è stato estubbato e l'emorragia è risolta e ora è ricoverato nel reparto di rianimazione e terapia intensiva post-operatoria monitorato da tutti gli specialisti della struttura ospedaliera. Coltirva Cannabis nella casa di Campagna è stato un giovane di 27 anni e è venuto a Riccia dove le piante di cannabis raccolte a cune in fase di coltivazione sono state scoperte dai carabinieri che hanno fermato il ragazzo alle presse della sua abitazione di Campagna. Alta sostanza stupefacente, 300 grammi di marijuana e hashish è un bilancino di precisione, è stata rivenuta anche da militari al termine della perquisizione per i 27 anni è scattato l'arresto in flagranza di reati attualmente ai domiciliari in attesa di udienza di convalida così come è disposto dall'autorità giudiziaria. Ed ora veniamo a Pineto dove c'è una violazione del vieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla convivente a seguito di violenza nei suoi confronti. Si tratta di un uomo di Pineto che ieri sera si era recato presso l'abitazione della donna cercando insistentemente di entrare senza riuscirvi. Da qui l'intervento immediato dei carabinieri. L'uomo ha minacciato gli uomini dell'arma strattonandoli e aggredendoli per poi darsi alla fuga. Prontamente fermato dai carabinieri ha poi morso all'avambraccio un carabiniere nel tentativo di vincolarsi ma è stato nuovamente immobilizzato. Il carabiniero ha riportato lesioni giocate guaribili in sette giorni così come certificato le sanitarie dell'ospedale di Giulianova. A Teramo la magistratura chiude il convitto nazionale Melchiorre del Fico sospese tutte le attività didattiche. Il particolare nel prossimo servizio che ci mia da Teramo Chiara Bonatti. E' arrivata come un fulmine il Celsereno l'ordinanza da parte della procura di Teramo che ordina il sequestro della struttura del convitto nazionale Melchiorre del Fico. Questo si è reso necessario perché la struttura, secondo il Ministero e un comitato tecnico-amministrativo, non garantirebbe la sicurezza di tutti gli occupanti sia in condizioni di sisma ma anche in condizioni stabili. La provincia aveva fatto degli studi che sono stati contestati per questo 1.200 studenti si trovano momentaneamente senza una scuola. Nel frattempo la provincia sta cercando delle aule provvisorie che non arriveranno prima di una settimana e successivamente, dopo aver trovato un'area apposita, si avrà una struttura simile a quelle post-terremoto, probabilmente entro Natale. Al Valio ci sono diverse zone, una nella Gammarana, ne stiamo vedendo un paio, stiamo capendo un paio sulla Gammarana. Una vicino a Rozzi, quindi a Venepezzano, l'altra a Villaripa. Sono tre le zone che stiamo valutando. Ci sono diversi fattori e parametri che ci diranno quale di queste è la pidone, soprattutto dove è possibile e dove è impossibile farlo, anche per motivi tecnici, di sottoservizi, geologici e l'altro. Contando che diversi ragazzi vengono con i mezzi, state pensando... Stiamo pensando, in base al luogo, poi di fare nel breve termine dei bus navetta e poi a lungo termine di parlare con Tua, che tra l'altro avevamo già per la prossima settimana un incontro per il quale modificare un po' gli orari per riorganizzare il giro. Anche il Comune con il Sindaco D'Alberto, la Vice-Sindaca di Padova, Assessore al Sociale, e l'Assessore alla Scuola Tulli, per la parte che riguarda le classi della primaria, secondaria e del convitto, si è attivato immediatamente cinque le persone a cui si è reso necessario trovare un alloggio con annessa vigilanza perché minorenni, mentre per le classi saranno utilizzate le aule dell'Istituto Comprensivo Teramo III. Quanto di nostra strettissima e diretta competenza, abbiamo garantito con l'Assessorato al Sociale l'ospitalità per i ragazzi del convitto, in particolare fuori sede, e quindi abbiamo individuato la struttura alberghiere. È una soluzione immediata, emergenziale. Per quanto concerne invece le elementari e le medie, quindi rientrano nella nostra competenza, abbiamo individuato, vedremo adesso con quali modalità, dalla settimana prossima, le due strutture dell'Istituto Teramo III, Teiacobis e San Berardo, quindi vedremo adesso sull'Istituto Teramo III come poter distribuire, senza creare ovviamente disagi a nessuno, meglio i ragazzi. Nei giorni scorsi il personale della Guardia di Finanza di Larino, sotto la direzione della Procura della Repubblica della città frentana, ha eseguito un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e mobiliari per un valore di circa 240 mila euro. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Larino nei confronti del rappresentante legale di un'azienda legale accusato di reati di natura fiscale. L'azione ispettiva ha riguardato due società legate da vincoli parentali e una ditta individuale portando all'acquisizione di una significativa quantità di documentazione extra contabile. Le indagini hanno rivelato ricavi non dichiarati per oltre 6 milioni di euro, imposte e vase per circa un milione e mezzo di euro nell'annualità oggetto della verifica. Torna domani sera su questa rete alle ore 21 il talk di approfondimento politico e non solo conto alla rovescia. Vediamo le anticipazioni della prima puntata dell'anno. E nei nostri studi il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti che domani sera sarà ospite della prima puntata del nuovo ciclo di trasmissioni di conto alla rovescia. Presidente domani sera parleremo di tanti temi caldi partendo dal sottosegretario alle deleghe che lei ha concesso e anche qualche tema, qualche riflessione a livello nazionale. Sarà pronto per questo confronto? Io sono sempre pronto e aperto ai confronti. Anzi, mi piace venire qui a Tene Regione e in qualche maniera ti auguro come dire tante altre bellissime pubblicità come conto alla rovescia perché poi Pasquale io mi trovo bene quando vengo qui a conto alla rovescia e quindi grazie a Tene Regione sarò qui domani sera. Bene, grazie al Presidente Roberti vi ricordo che domani sera saranno ospiti anche nella seconda parte i sindaci dei due capoluoghi di Campobasso e Sernia Maria Luisa Forte e Piero Castrataro. Quindi grazie a noi Presidente a domani sera ore 21 su questa rete con conto alla rovescia. L'Avvocato Fausto Parente resta a capo di Funivie Molise società proprietaria degli impianti di risalita e innevamento della stazione scistica di Campitello Matese. Parente è stato disegnato amministratore unico fino al 31 dicembre 2025 dalla Giunta regionale guidata da Francesco Roberti una riconferma per l'Avvocato che guida la società partecipata dal 2021 quando venne disegnato dall'ex governatore Donato Toma. Ed occupiamoci ora di trasporto pubblico urbano della città di Campobasso perché dopo l'annullamento del bando da parte del Tar Molise è scontro politico. I consiglieri del centro-destra puntano il dito contro il centro-sinistra e contro chi con la giudicazione aveva parlato di un grande risultato. Sul tema è stato chiesto anche un consiglio monotematico. Fabiana Bazzia. Si infiamma lo scontro politico tra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale a Campobasso dopo l'annullamento da parte del Tar Molise del bando del trasporto pubblico. Un tema sul quale i consiglieri di centro-destra che hanno già avanzato la richiesta di un consiglio monotematico tornano alla carica contro l'attuale amministrazione in cui figurano assessori della scorsa consigliatura che con la giudicazione della gara avevano parlato di uno dei più importanti obiettivi raggiunti. Il paventato successo che Gravina, Cretella in questi mesi in campagna elettorale hanno evidenziato secondo me è totalmente inopportuno. Oggi è sotto gli occhi di tutti che la Sati si andrà a ricorrere in Consiglio di Stato per poter bloccare una procedura e automaticamente avremo un momento di blocco sia per quanto riguarda gli investimenti sia per quanto riguarda un piano che deve essere rivista della mobilità interna dei pulmati di città dovuta a questo ricorso. A mio avviso col monotematico dobbiamo chiarirci le idee fare meno propaganda fare meno il petto fuori perché ci si può scivolare ed è ammissibile però adesso bisogna trovare soluzioni. Più nel dettaglio della vicenda entra il consigliere esposito con dubbi e domande precise all'esecutivo forte. Lo stesso studio legale che ha difeso il comune che è risultato perdente è stato anche lo stesso studio legale che ha dato una consulenza tecnico-amministrativa nelle fasi di affidamento del bando alla Sati. Quindi dico oggi cosa vogliamo fare? La difesa in Consiglio di Stato eventuale costituzione del comune di Campobasso innanzitutto a chi sarà affidata perché ho preoccupazione anche del dispendio del denaro pubblico da questo punto di vista. Intanto tra gli autisti della Sati c'è molta preoccupazione per il futuro a prensione che è stata raccolta dallo stesso centrodestra a Palazzo San Giorgio. Preoccupazione dei lavoratori preoccupazione dei cittadini perché rimangono senza trasporto adesso la Sati credo debba garantire fino al nuovo giudicatario e questa è la dimostrazione dell'inefficienza di questa amministrazione non hanno un minimo di programmazione. Dal canto suo l'assessore Maio continua a rassicurare su come il servizio non sarà interrotto così come stabilito dalla determina dirigenziale dello scorso primo ottobre relativa alla prosecuzione della gestione del servizio in capo alla Sati nel mentre la giustizia amministrativa farà il suo corso sempre da Palazzo San Giorgio in attesa che il tema arrivi ora in aula si sta anche valutando il ricorso al Consiglio di Stato. Dopo la cabina di coordinamento Sisma l'USA Abruzzo prende in gestione 14 edifici dell'Ater di Teramo l'obiettivo è quello di velocizzare l'inizio dei lavori e di smaltire il lavoro all'azienda. Chiara Bonatti Nella cabina di coordinamento Sisma svolto a Sieri è stata approvata l'ordinanza che consente all'USA Abruzzo di prendere in mano 14 edifici di proprietà dell'Ater di Teramo con questo passaggio si cerca di sgravare l'Ater da alcune incombenze in considerazione dell'esiguo numero di personale all'interno l'obiettivo inoltre è quello di consentire la definizione di progetti entro fine anno e l'avvio dei lavori tanti nel frattempo come spiega il presidente Marsiglio i fondi stanziati e i progetti approvati per la ricostruzione su Teramo La città di Teramo ci sono quasi 250 milioni compressivi ormai approvati non stanziati con progettazioni approvate ordinanze adottate è arrivato il tempo io penso che l'anno che viene soprattutto durante il 2025 sarà l'anno in cui vedremo aprire molti e significativi cantieri compreso quello della prefettura di Teramo che è un edificio strategico non soltanto per l'istituzione che rappresenta che è un po' la madre di tutte le istituzioni ma anche perché è ben insiedato nel centro storico di cui il suo palazzo è anche un elemento caratterizzante nel frattempo partirà il cantiere per i lavori della prefettura sono 11 milioni e 220 mila euro per gli interventi di adeguamento sisma di un edificio vincolato oggettivamente dati alla mano non siamo riusciti a essere così veloci perché ci sono voluti oltre due anni da quando abbiamo dato l'incarico di progettazione ma essendo questo un edificio storico vincolato e con delle criticità particolari abbiamo dovuto rispettare vincoli indirizzi della sovrintendenza del comando dei vigili del fuoco di altri enti e quindi finalmente nel mese di giugno siamo arrivati all'approvazione del progetto esecutivo pronto per la gara ovviamente nell'ambito dell'ordinanza c'era già previsto da parte del commissario che una parte delle spese potessero essere utilizzate per la delocalizzazione perché questo è un servizio essenziale che non può non continuare nel mese di ottobre la prefettura inizierà il trasloco nell'ex consorzio agrario in cui troverà a rimanere per i prossimi tre anni noi faremo di tutto per fare entro fine anno questo anno ovviamente noi siamo come ho detto più volte da un lato molto tristi perché questa è la nostra casa storica è il posto dove la prefettura è sempre stata e dove trascorriamo la maggior parte delle giornate dal lunedì al venerdì e qualche volta anche di sabato e di domenica e dei festivi da un lato siamo contenti perché finalmente liberando noi questo immobile potranno cominciare i famosi lavori di risistemazione si è insediato ieri sera a palazzo di governo il nuovo prefetto di Isernia si tratta di Giuseppe Montella che subentra a Franca Tancredi trasferita a Rovigo orgoglioso di essere in questa bellissima realtà territoriale questo ha detto il nuovo prefetto di Isernia Isernia è il nuovo prefetto si tratta di Giuseppe Montella che ieri sera ha assunto le funzioni di prefetto ha preso il posto dell'uscente Franca Tancredi trasferita a Rovigo ieri la prima uscita ufficiale con il saluto alle istituzioni alle forze dell'ordine e ai cittadini cerchevo di impegnarmi al massimo per fare in modo che l'azione amministrativa nel territorio di Isernia possa conseguire buoni risultati ma questo devo dire che è possibile se ci sarà e sicuramente ci sarà perché ho trovato un gruppo molto coeso ci sarà la coesione tra le varie forze dell'ordine e gli altri attori istituzionali ecco dobbiamo puntare sul lavoro di squadra è imprescindibile il supporto da parte dei sindaci spesso i sindaci si sentono un po' abbandonati però io posso garantire questo posso appunto garantire sin da oggi che la prefettura è sempre aperta alle loro istanze la prefettura il prefetto oltre alle sue competenze dirette svolge una funzione fondamentale che è la funzione di ascolto di mediazione spesso mette intorno a un tavolo i vari attori istituzionali è fondamentale per trovare delle soluzioni e quindi i sindaci devono ai sindaci assicuro senza altro il supporto mio e quello dei miei collaboratori in modo che possano appunto vedere nella prefettura un valido interlocutore per tutte le istanze che intendono far arrivare al centro il 34% di giovani e giovanissimi assume sostanze stupefacenti almeno una volta nel corso dell'anno sono questi i dati nazionali che coincidono anche con quelli del territorio della provincia di Campobasso dove la Polizia di Stato guidata da questore Tatarelli ha promosso un progetto all'interno delle scuole superiori del territorio contro le dipendenze che a breve prenderà il via e che è stato presentato questa mattina educhiamo alla legalità contro le dipendenze il titolo del progetto promosso dalla Polizia di Campobasso insieme alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise la prima edizione di un'iniziativa che coinvolgerà le classi terze quarte e quinte di 15 istituti scolastici della provincia è stato fortemente evoluto dal questore Tatarelli e vedrà il dirigente della Mobile Marco Graziano unitamente al medico della Polizia di Stato Pietro Liotti mettere in guardia gli studenti sugli effetti psicofisici dell'uso delle droghe ma anche su una serie di aspetti investigativi delle forze dell'ordine in base ai numeri nazionali sull'assunzione di sostanze stupefacenti tra i giovani emerge che il 34% di loro almeno una volta in un anno ne ha fatto uso in media un ragazzo su tre una situazione che in Molise di certo non va meglio e che vede la polizia impegnata non solo in azioni repressive ma soprattutto nel campo della prevenzione sono gli stessi i numeri e c'è questo particolare avvicinamento dei giovani molto giovani alle sostanze cosiddette leggere ma anche agli psicofarmaci quindi una problematica che poi però crea una forte dipendenza e che crea dei problemi di salute importanti per questo nel progetto c'è anche la presenza di un medico che dovrà illustrare ai ragazzi proprio la pericolosità di queste sostanze sconfiggere una piega che oggi non solo è sempre più presente ma troppo spesso corre veloce sulla rete resta uno degli obiettivi fondamentali del mondo della scuola dobbiamo lavorare per il compito nostro che è quello della scuola che è anche una comunità educante per evitare che il fenomeno si dilaghi più di quanto non accada quindi ogni progetto è non soltanto il benvenuto ma un atto dovuto per i nostri studenti l'importante resta far comprendere che il consumo sporadico di simili sostanze non può e non deve essere inteso come innocuo avvicinarsi alla droga anche quelle cosiddette leggere è un pericolo enorme perché l'incontro con questa realtà può essere deviante può essere il momento in cui si esce dal proprio percorso di vita e si rinuncia a tutto un ruolo importante all'interno del progetto lo avrà padrellino Iacobucci da sempre impegnato nella lotta alla droga con la sua comunità alla valle e che i ragazzi porterà testimonianze reali e che ha voluto poi ricordare come la lotta alle dipendenze negli anni sia diventata sempre più difficile e complessa anche a causa della diffusione delle droghe sintetiche non sono più quelle sostanze classiche che una volta non incidevano direttamente sul cervello davano delle conseguenze però che erano immediabili oggi purtroppo usando delle droghe sintetiche come anche dei farmaci allora si producono dei danni irreparabili per cui la possibilità di uscire fuori di recuperarsi completamente è presso che impossibile 30 anni di sinergie per contrastare emergenze e spopolamento l'Anci Abruzzo compie 30 anni e l'Associazione dei Comuni italiani ha celebrato tutto al teatro Marucino di Chieti un'associazione che va oltre le appartenenze politiche e oltre i campanili che coniuga le forze di chi è sul campo ogni giorno i sindaci termina le distanze e bisogni delle persone primi responsabili del benessere di un territorio e delle comunità che lo abitano l'Anci Abruzzo l'Associazione dei Comuni italiani compie 30 anni un'età in cui si stila un primo bilancio dei tanti fronti che hanno visto lavorare insieme i sindaci i terremoti del 2009 e del 2016 la recente crisi idrica i fondi da mettere a frutto e la dignità che i borghi che lottano contro lo spopolamento ogni giorno rivendicano giustamente come ricordato dal presidente dell'Anci Abruzzo Gian Guido D'Alberto nel corso delle celebrazioni del trentennale svoltesi al Teatro Marrucino di Chieti non dimentichiamo che l'Abruzzo è una regione che per l'85% è composta da piccoli comuni e il supporto in ogni attività non è mai mancato da parte del Lanci che è un punto di riferimento istituzionale nel dialogo con tutti i livelli istituzionali grazie a tutti i colleghi sindaci grazie a tutti gli amministratori d'Abruzzo perché questi 30 anni sono stati una storia straordinaria in questi 30 anni abbiamo imparato cosa significa la parola sinergia è stato rimarcato nell'evento cui hanno preso parte i rappresentanti dei 305 comuni abruzzesi una ex sindaca come Tiziana Magnacca oggi assessora regionale alle attività produttive e al lavoro sa bene cosa voglia dire stare in prima linea il lavorio quotidiano a volte faticosissimo nell'interesse dei cittadini a servizio dei cittadini insomma un'associazione che ogni giorno ci ricorda la bellezza della politica e il senso del servizio Angelo Caruso sindaco di Castel di Sangro presidente della provincia dell'Aquila e vicepresidente nazionale dell'Unione delle province ha evidenziato dal palco il ruolo degli enti locali un momento celebrativo anche per riassumere un po' quello che è stata la vita delle municipalità in tutti i processi evolutivi di difficoltà e quello che rappresenterà la pubblica amministrazione soprattutto declinata nell'ambito delle municipalità per un futuro sul quale ci attendono delle sfide importanti ma sicuramente un impegno straordinario gioco di squadra tra sindaci fondamentale per affrontare le criticità Luisa Russo sindaca di Francavilla al Mare Lanci è un'associazione fondamentale per noi sindaci io quotidianamente seguo le indicazioni il grande lavoro che Lanci fa per tutti noi e per far arrivare la voce dei territori nel Parlamento il Governo e laddove è necessario torna alla Mela di Aism l'iniziativa promossa dall'associazione italiana Sclerosi Multipla per raccogliere fondi per la ricerca e nuove terapie potente in Italia ogni anno 3.600 persone vengono colpite dalla Sclerosi Multipla patologia che interessa il sistema nervoso centrale con una nuova diagnosi ogni tre ore delle oltre 140.000 persone con Sclerosi Multipla il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni le donne sono il doppio rispetto agli uomini questi sono alcuni dei numeri di quella che è una grande emergenza sanitaria e sociale questo spiega l'importanza della ricerca dei servizi destinati alle persone colpite da tale malattia neurodegenerativa e quindi di iniziative come la Mela di Aism promosso dall'associazione italiana Sclerosi Multipla grazie ai fondi raccolti sono state sviluppate nuove terapie e trattamenti che migliorano la qualità della vita delle persone che combattono contro questa patologia come ogni anno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica in occasione della giornata del dono domani 4 ottobre e nei weekend del 5 e del 6 ottobre la Mela di Aism tornerà in 5.000 piazze italiane sarà offerta una borsina rossa contenente un sacchetto da 1,8 kg di mele disponibile con una donazione minima di 10 euro all'interno di ogni borsina è inserito anche un pieghevole informativo e un QR code per accedere a ricette esclusive di chef Alessandro Borghese che per il decimo anno consecutivo è il volto della campagna la Mela di Aism io scendo in piazza con Aism e tu che aspetti? ed ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani in Abruzzo e Molise previsioni del tempo per venerdì 4 ottobre su Abruzzo e Molise sull'Abruzzo una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi con piogge pomeridiane le temperature l'Aquila minima 9 massima 18 gradi Pescara 16-21 gradi Chieti 13-21 gradi Teramo minima 11 massima 19 gradi in Molise invece la circolazione depressionaria responsabile di residua e instabilità mattutina si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca con un graduale rasserenamento andiamo ora a vedere le temperature Campobasso minima 13 massima 18 Isernia minima 13 massima 20 gradi Termoli 18-25 gradi Benafro minima 13 massima 21 gradi Siamo giunti al termine di questa edizione del nostro TG vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro una cordiale buona serata ma non andate via perché tra poco c'è la nostra pagina sportiva lo sport il calcio di serie C parliamo dell'ottava giornata che inizia domani e dunque con l'aiuto della nostra grafica vediamo tutte le gare che sono in programma domani in campo Rimini Spal con fischio d'inizio alle 20.30 poi invece sabato Carpi Pontedera Milan Futuro Pianese Sestri Levante Vispesaro tutte le 15 domenica Pineto Gubbio Torre Sarezzo Perugia Lucchese Virtusentella Legnago Ascoli Pescara e lunedì il posticipo tra la Ternana e il Campobasso con fischio d'inizio alle 20.30 il Campobasso si prepara per affrontare la Ternana e sogna l'impresa in casa di una formazione in grande condizione reduce da 4 vittorie consecutive Franco De Santis è scattata la prevendita dei biglietti in vista del big match di lunedì sera che vedrà opposto il Campobasso alla Ternana dell'ex Milan Ignazio Abate prevista una folta rappresentanza di tifosi rosso-blu anche se non potrà esserci un esodo considerando giorno e orario lunedì alle 20.30 il fischio d'inizio della sfida in terra Umbra i rosso-verdi arrivano da un grande filotto di risultati con 4 vittorie consecutive conquistate dopo la sconfitta interna contro il Pescara sarà dunque difficile fare risultato positivo ma i lupi possono farlo alla luce delle buone prestazioni e dei 7 punti racimolati nelle ultime 3 partite sono 10 in tutto i match giocati in poco più di 60 anni tra Molisani e Umbri il bilancio è leggermente a favore dei rosso-blu che ne hanno vinte 5 contro le 4 dei rosso-verdi un solo pareggio tra l'altro in una Coppa Italia di Serie C dove i lupi arrivarono fino alla finalissima persa poi contro il Vicenza la primissima volta fu nella stagione 59-60 campionato di Serie D le due si ritrovarono anche nelle 63-64 si lottava per salire di categoria i rosso-blu di De Angelis si piazzarono a quarto posto 6 punti dietro proprio agli Umbri che vinsero il campionato con una lunghezza di vantaggio sulla fermana poi agli albori degli anni 80 con match decisi dai vari Nemo, Scorrano Biondi e Maestripieri il Pescara difende la vetta della classifica domenica in casa dell'Ascoli Ascoli che ha cambiato allenatore ma notizia dell'ultima ora ha detto no tesser alla società marchigiano e dunque il club deve individuare il nuovo trainer sentite il Pescara si prepara ad affrontare l'Ascoli la sfida in programma domenica sera alle ore 19.30 le ultime dallo spogliatoio parlano di un affaticamento per D'Agasso che ha svolto lavoro differenziato domani in programma amichevole a Silvi con la squadra di promozione del Castrum dopo il grave infortunio di Lonardi che resterà fuori per diversi mesi al centrocampo mister Baldini dovrà studiare le mosse giuste ed efficaci in rampa di lancio squizzato davanti alla difesa con Valsania e D'Agasso interni Ascoli privo di Curado per lesione al menisco e dello squalificato forte rientra invece Varone domani pomeriggio Tesser dovrebbe dirigere il suo primo allenamento da tecnico dei bianconeri dopo l'esonero di Massimo Carrera i biancoazzurri sono chiamati a difendere una vetta agganciata da due giornate subito dopo il big match vinto sul campo della diretta concorrente Virtus Entella Ed ora il calcio di Serie D con il match in programma domenica allo stadio L'Ancelotta di Isernia tra la formazione locale ed il Teramo in tribuna Vincent Tawà bandiera dell'Isernia e poi del Teramo che ha salutato i tifosi Pentri con un video sui social sentite a suon di gol 13 in 28 presenze dribbling e assist contribuì in maniera decisiva alla vittoria del campionato di Serie D stagione 2002-2003 l'Isernia conquistò il professionismo grazie ad una corazzata che vinceva e divertiva a distanza di tanti anni uno dei protagonisti di quella indimenticabile pagina di storia bianco-celeste torna a Isernia Vincent Tawà domenica sarà allo stadio Lancellotta con il cuore diviso in due da un lato Teramo dove è esplosono i professionisti dall'altro Isernia dove è diventato calciatore il mio ritorno a Isernia dopo tanti anni è veramente meraviglioso meraviglioso come si torna a casa la seconda ringrazio veramente la città che mi ha dato tanto per quello che ho fatto dopo Isernia che è il mio percorso la piccola carriera che ho fatto e devo ringraziare questa città e poi l'ultimo che è quella più importante saluta i tifosi i ragazzi specialmente i Cherokee che siete state sempre per me veramente sempre spettacolare spettacolare perché stare dietro una squadra stare dietro sembra di fare una città è una cosa bella una cosa bella quindi colgo l'occasione a salutarvi abbracciarvi tutti e sarà ancora veramente particolare emozionante il mio ritorno a Isernia già mi sento emozionante e quindi immagino lo stadio immagino lì sul posto a Isernia Isernia a Teramo che devo dire tifo due squadra e che la migliora finca un salute a tutti e ci vediamo non mancare ci vediamo domenica e nel fine settimana in programma la Corrisernia manifestazione podistica sia amatoriale sia agonistica che ogni anno richiama in città migliaia di appassionati per il sindaco Castrataro la Corrisernia è un motivo di orgoglio per l'intera collettività servono i preparativi per la Corrisernia manifestazione podistica competitiva ed amatoriale che ogni anno richiama in città migliaia di persone l'appuntamento più atteso è con il Corri la scuola centinaia e centinaia di bambini e ragazzi pronti a sfidarsi per le strade di Isernia nel tentativo di ottenere un buon piazzamento per gli appassionati di atletica invece sarà l'americana richiamare tutte le attenzioni con nomi altisonanti nel panorama sportivo internazionale le novità dell'edizione 2024 della Corrisernia sono state annunciate a Palazzo San Francesco nel corso di una conferenza stampa oltre a questo diciamo altre novità che abbiamo riguardano gli atleti partecipanti all'americana e al miglio avremo atleti che hanno partecipato ai campionati europei alle ultime Olimpiadi di Parigi uno tra tutti ricordo Pietro Arese primatista italiano dei 1500 metri ottavo alle Olimpiadi e quarto ai campionati europei per le donne avremo l'onore di ospitare Ludovica Cavalli è un'altra atleta di mezzo fondo che è stata una prima arrivare in finale dopo 30 anni ai 1500 metri ai campionati europei quindi poi ci saranno tanti altri atleti che Bowie il vincitore dell'anno scorso e tanti altri che insieme ad alcuni giovani che il nostro tecnico Luciano Di Pardo ha voluto portare ancora questa volta a Isernia il sindaco di Isernia Piero Castrataro con orgoglio ha ribadito che la Corrisernia è divenuto un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del podismo su strada e che la manifestazione dà lustro alla città richiamando appassionati anche dalle province limitrofe l'eccellenza non solo del territorio di Sernino io direi di quello della regione non solo delle gare importanti dal punto di vista professionistico ma soprattutto la possibilità di partecipare a famiglie ragazzi chiunque voglia passare una bellissima giornata all'insegna dello sport di una comunità che partecipa a un evento importante è un ringraziamento a chi ha organizzato continua a organizzare con passione questa manifestazione alla NAI ad Agostino Caputo per l'impegno ma ai tanti tanti volontari che in questi giorni nelle prossime ore saranno impegnati per organizzare questo evento molto importante un evento in cui la comunità si ritrova un evento di gioia quindi il mio appello alle famiglie ai ragazzi a tutti i cittadini a partecipare perché è veramente un momento di comunità e sarà presentata ufficialmente domani sera alle 18.30 presso il salone d'onore del convitto Mario Pagano a Campobasso la formazione degli Energy Time Spike Devils Campobasso stiamo parlando ovviamente di volley intanto dopo il test con il Sabaudia queste le sensazioni del tecnico Marcello Maniscalco intervistato da Francesco Presutti La indicazione principale è che sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto tanto perché comunque abbiamo avuto delle difficoltà difficoltà legate anche a qualche situazione di infortunio non eravamo al completo e abbiamo fatto un po' di fatica soprattutto in attacco però c'è da considerare il fatto che comunque abbiamo avuto tante situazioni di gioco a muro a uno che è un po' quello che è sempre l'obiettivo di una squadra magari non siamo stati così incisivi in attacco nonostante tante occasioni di muro a uno però quella è una cosa che sicuramente col migliorare della condizione fisica sicuramente è una cosa che faremo che faremo meglio e del resto non possiamo aspettarci a fine settembre una squadra già nel pieno della forma no? non sarebbe non sarebbe naturale quindi insomma con fiducia dobbiamo continuare a lavorare e se mettiamo in condizione gli attaccanti di attaccare a muro a uno vuol dire che insomma di cose buone ne stiamo facendo sabato prossimo si chiude un po' il ciclo di questi allenamenti congiunti di questi amichevoli sì è l'ultima perché comunque mancano due settimane al campionato non sono tante però insomma è un periodo da sfruttare al meglio bene è tutto con la pagina sportiva grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci grazie 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 grazie